Tragico incidente mercoledì sera sulla via Pesciatina a San Vito. Un uomo di 44 anni, David Agnesi, è morto dopo essere stato investito da un auto all'altezza dell'incrocio con via del Tanaro. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, Agnesi stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto dall'auto. Il corpo è prima rimbalzato sul cofano e sul parabrezza, poi è caduto pesantemente sull'asfalto. Sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi e il personale del 118. Per l'uomo però non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell'urto. Agnesi è morto praticamente sul colpo. Sulla Pesciatina è intervenuto il personale della Polizia di Stato per regolare il traffico e della Municipale di Lucca che dovrà stabilire le eventuali responsabilità del sinistro. Agnesi era un operatore sanitario e lavorava per la cooperativa KCS Nuovi Orizzonti.